Ivantisci, partiamo dalla prima domanda d'obbligo, a che punto stai, come stai fisicamente? Sto meglio, sto molto meglio, è chiaro che adesso le gambe cominciano a girare un po' di più rispetto a due settimane fa, sto lavorando col gruppo, quindi sta crescendo la mia condizione come quella di tutta la squadra, quindi sono contento, anche se è chiaro, c'è ancora da lavorare. Volendo dare i numeri, a che percentuale sei? Il percentuale, che ne so, sarà un 70%, 75%. Senti, parliamo un attimo della squadra in generale, un po' come te forse, cioè ha bisogno di tempo per crescere, quando gioca al calcio, il primo tempo di domenica scorsa è evidente, non ce n'è per nessuno, poi la ripresa è sempre quella micidiale, nella quale le squadre come il Zanno, che sono sicuramente più modeste, ma hanno più birra nelle gambe, poi ci puniscono. Sì, è indubbio questo, è chiaro che oltre alla condizione fisica deve migliorare anche quella tattica, perché solo così si possono portare a termine tutte le partite. In queste due partite iniziali, visto che la qualità non manca, la squadra sicuramente è ben allestita per fare bene in questo campionato, ma lo sappiamo benissimo. È chiaro che deve migliorare la condizione perché le partite durano 90 minuti, per adesso i 90 minuti ancora non ci sono, però dobbiamo essere ottimisti, avere un pizzico di pazienza, cercare di fare più punti possibili in questo periodo per poi essere tutti al top. Non mi rispondere nel solito modo diplomatico, il tecnico D'Arrico ha provato varie soluzioni tattiche, addirittura in qualche scorcio è passato al 4-4-2, al 4-3-3. Pensi che questa squadra possa giocare con entrambi questi moduli oppure una squadra nata per il 4-4-2? Io penso che in questo momento il mister stia provando varie soluzioni, proprio per il fatto che non tutti sono al 100% per provare i vari giovani, i vari under, perché è chiaro che molto si basa su di loro, quindi penso che il motivo principale sia questo, è chiaro, trovare la quadratura giusta. La squadra secondo me può fare entrambi i moduli perché ha giocatori e ragazzi giovani con le caratteristiche giuste per fare entrambi i moduli, è chiaro che poi secondo me dovremo trovare un assetto e portarlo avanti il meglio possibile perché solo quando si dà continuità si possono fare risultati. Qualche giorno fa hai detto lasciateci lavorare con calma, dobbiamo evitare le pressioni che sono deleterie, però è ovvio che sai bene quanto i tifosi e credo anche voi aspettate una vittoria o meglio un filotto di vittorie. Ma questo è chiaro, è chiaro. Io ho sottolineato il fatto che non bisogna mettere pressioni perché il campionato è sicuramente lungo. È un campionato dove noi vogliamo e faremo di tutto per essere protagonisti perché l'obiettivo lo sappiamo qual è, però è chiaro anche che è in dubbio il fatto che siamo insieme da poco tempo, siamo indietro un po' di preparazione, di condizione generale, quindi mettere troppa pressioni anche e soprattutto addosso magari ai ragazzi più giovani che sono alla prima esperienza e soprattutto un'esperienza importante perché Avellino, io l'ho sempre detto a loro, non è come giocare in altre piazze, Avellino è una piazza che tutti sanno è importante, quindi se ci mettono troppa pressioni in questo momento si rischia che possano diventare deleterie. Poi l'obiettivo è quello comune di tutti, dei tifosi, della stampa e della squadra, soprattutto quello di vincere, quindi per vincere bisogna stare tutti uniti, solo questo. Che cosa consigli a Yander, oltre insomma di raccontargli di Avellino e della sua storia, che altri consigli pratici gli dai da veterano quale sei? Ma io quello che ho sempre sottolineato a loro è che se sono stati scelti ad Avellino è perché la società li reputa fra i migliori giovani in circolazione, quindi hanno una responsabilità anche loro, loro devono pensare a crescere, ad ascoltare l'allenatore, ascoltare noi più grandi che gli possiamo dare dei consigli, io l'ho detto a loro, loro prima crescono e prima cresciamo come squadra, quindi loro sono importanti, lo sanno, poi è chiaro che le responsabilità principali ce le prendiamo noi più anziani, ma penso che sia anche giusto, però loro se ci seguono e ci ascoltano penso che si potrà fare bene. Senti, hai accettato la causa Avellino con grande entusiasmo, grandi motivazioni, stimoli, ma come si fanno a trovare gli stimoli e le motivazioni alla tua età, quando insomma hai vissuto campionati importanti, con squadre importanti, ripartire dalla Serie D è una scommessa che che tipo di emozioni regala? Io ho fatto questa scelta, ci ho pensato parecchio perché ho dovuto ponderarla bene, perché è chiaro che scendere di categoria, se non scendi con la testa giusta, rischi anche di fare delle figuracce, quindi io sono stato contento e orgoglioso del fatto che la nuova società, il direttore in primis, ha pensato a me come giocatore per ripartire e per creare qualcosa di importante. Ci ho pensato bene e alla fine ho capito che comunque tornare ad Avellino per cercare di riportare questa società nel calcio che conta, poteva essere una bella sfida a 35 anni, io ho ancora tanta voglia di far bene, di giocare, lo scorso campionato ho comunque fatto un buon campionato in Ciedero e sono stato contento, avevo delle possibilità migliori però penso che alla mia età trovare le motivazioni giuste e gli stimoli giusti per andare avanti sia il pane, quindi l'ho scelta con entusiasmo, sono contentissimo e ripeto sono ottimista. Naturalmente bisogna vincere questo campionato, altrimenti tutti questi sacrifici saranno un po' non ricompensati. Sì, ma io l'ho detto, io non è che mi nascondo, sono qua per vincere come è venuto qua Biancone, lo stesso Puleo e i più anziani per vincere, il mister stesso, ripeto, l'obiettivo principale è quello, però per vincere bisogna essere tutti uniti e non dimenticare mai che le partite bisogna giocarle.